Grande fratello. Alfonso Signorini scioccato. Gesto assurdo del GF verso Beatrice Luzzi. I fan indignati. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Beatrice Luzzi si è affermata come la prima finalista del Grande Fratello, conquistando il 60% delle preferenze nel televoto. La sua vittoria è stata annunciata durante la diretta dello show, subito dopo l'uscita di Grecia, rendendo l'attrice dai capelli rossi la prima a raggiungere questo traguardo. A seguire, si sono qualificati per la finale anche Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vattiero e Simona Tagli. In un momento di gioia in piscina, Beatrice ha tentato di mandare un messaggio ai suoi figli Valentino ed Elia per celebrare il suo arrivo in finale. Ma è stata censurata dal Grande Fratello. Ce l'abbiamo fatta dai ragazzi Vale e Elia mamma mia quanto vi penso! Quanto mi mancate! Quanto vi voglio bene! Quanto vi stimo! Ha esclamato Beatrice. Tuttavia, la sua comunicazione è stata interrotta dalla censura. Suscitando la reazione indignata dei fan sui social. Un gesto assurdo da parte del Grande Fratello. L'hanno sempre censurata 90 volte su 100 quando salutava i figli. Scrive un utente. Mentre un altro commenta. Autori siete delle me che più me non ce n'è. La censura di questi momenti intimi e personali ha sollevato dubbi e critiche tra il pubblico. Che si chiede il motivo di questa scelta da parte della produzione. Nel frattempo, la telecamera si è spostata su Varrese che prendeva il sole in giardino. Lasciando in sospeso le parole di Beatrice. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.